Novità significative all'interno del partito e non solo? Sicuramente c'è l'impegno di venire a una soluzione il prima possibile. Ce lo chiedono i trentini, ce lo chiedono le attività economiche e quindi io confido che nelle prossime giornate, più che settimane, si possa veramente chiudere la questione e Dio ce la manda in buona. Grazie.